Questi sono dei nominativi buffi che ora vi leggerò, me le sono appuntati qui, da utilizzare con i bambini in un contesto di magia comica o comunque di affabolazione umoristica. Cioè l'idea è sempre cercare delle cose che facciano ridere e ai bambini far ridere se associate per esempio a una figura di autorità come può essere un maestro, un preside, un poliziotto, un medico, dei nomi buffi, perché crea una contraddizione e di solito nella differenza che si crea tra l'immaginario che nella propria mente uno si fa di un poliziotto, di un preside, quindi di una figura verso cui bisogna avere riguardo, anche differenza, e il nome che invece manda tutto in vacca perché è un nome buffo che prende in giro e lì è un buon contesto in cui generare una risata e possono veramente risultare uno strumento potente. Addirittura mi succede che i bambini preferiscano poi sentire altri nomi di questo tipo nel contesto di una storia piuttosto che vedere il gioco di magia che diventa quasi pretestuoso nel contesto di una magia comica, gioco che però per essere definito come di magia comica ci deve essere a un certo punto, se no è soltanto una narrazione che fa ridere. E anche nel contesto, al di là della magia comunque, di una storia narrata con l'obiettivo di creare buon umore nei bambini, di farli divertire, utilizzare questa tipologia di nomi funziona, funziona tanto, quindi avere uno zio che si chiama Muccasana, un maestro che si chiama Cicciapuzza, la vicepreside Serena Zappavigna, o l'altra professoressa e Ramazza che ti passa, i compagni di classe sono Mantasso Etti Ticchio, o Caciocavallo e Bacica Lupo, Pizzi Pipino Pappalessa e Armando Broccarotta, il custode della scuola può essere Fiera Mosca Tiramisu, oppure Fiera Mosca Tiramisu può essere, perché io l'ho associato a determinate caratteristiche, a determinati ruoli, quindi mi sa accendere la lampadina quando sento del nome, ora le stavo dicendo un po' a caso, Fiera Mosca Tiramisu per esempio è il proprietario della bottega di Non Ricordo Cosa, in località a Prato Bello, fra Vaffino e Morsetto, lì vicino alla collina degli Stivali, avete in mente? Sì, accanto alla spiaggia di Capocotto, proprio lì, proprio lì, e quindi ecco, mi piaceva fare una lista di questi nomi, che ora vi leggerò perché se no me ne scorderei alcuni, che possono caratterizzare alcune figure che magari già utilizzate e le chiamate semplicemente il maestro, arriva la professoressa, e associate dei nomi buffi, e oltre ai nomi anche delle caratteristiche, e quali sono le caratteristiche che fanno ridere di un maestro, se ha il sedere più grosso del mondo, la testa pelata come una palla di biliardo, la pancia che ricorda il tendone di un circo, che non si cambia mai i calzini, e un suggerimento per me fondamentale è quello di essere seri e credibili mentre le raccontate, perché è nella differenza che si crea la risata, è nella distanza che si crea la risata, se io sono serio e dico delle cose assurde, il bambino fa fatica a trattenersi, anzi quasi io scherzosamente lo rimprovero, che c'è da ridere, dico maestro, sì ma mi hai detto che è il sedere più grande del mondo, ma ora è anche in pensione, ha aperto una pizzeria da poco che si chiama da cicciapizza, e non c'è nulla, cicciapizza, ecco trovare questi nomi funziona da morire, non voglio mettere troppa carne al fuoco, rispetto alle storie vi farò dei video specifici, adesso mi limito a declamare questa lista, che è bellina, bellina, cioè io come l'ho trovata? L'ho trovata perché per i problemi mentali che ho, quindi quello penso sia il primo motivo, e poi perché mi sono lasciato, ho perso il lavoro, mio figlio non mi vuole più vedere, ho un sacco di tempo libero, ecco fondamentalmente, e quindi la lista è questa, cicciapizza, comare le capiatti, ramazza che ti passa, pressa poco su per giù, armando broccarotta, marzapane, zamparitta, pizzipipino pappalessa, callimaco saltasiepe, sapientino serietti, peperina senza coda, paola carmen, salamino, isidoro spaccatutto, Ettore zampalunga, fiera mosca tiramisù, tre piedi gelsomino, paolo mucca sana, serena zappavigna, dente di squalo, rombo di tuono, freccia di fuoco, diavolo rosso patatalessa, cioè per esempio pensate a un bimbo, io vado lì e gli dico, te sei un tipo un gamba, ora sono un po' indeciso, mi piacerebbe darti un nome d'arte, anch'io un nome d'arte, che è pizzipipino pappalessa, è già da ridere, dico, io sono un deciso se chiamarti rombo di tuono, freccia di fuoco, dente di squalo o patatalessa, c'è una grande differenza fra i primi tre, che sono nomi tosti, fighi, e il quarto, ci penso un attimo su, ho trovato patatalessa, la patatalessa no, io dente di squalo, ecco funziona, poi continuo, se non mi perdo, pasta asciutta semolino, caciocavalle bacicalupo, mantasse teticchio, glaucone a pollo d'oro, cacandra e molletta, ora, cioè voi immaginatevi, se uno va a scuola per imparare i giochi di magia, ora così ha intuito, secondo voi caciocavalle bacicalupo, saranno degli studenti somari o bravi? Somari, infatti stanno al primo banco in fondo, in fondo e non ascoltano mai, è lo stesso mantasso e teticchio, mentre invece fammi vedere, ora vado, Severino Serietti, che qui non ve l'ho messo, Severino Serietti o Sapientino Serietti, sarà uno bravo o no? Molto bravo, anche peperina senza coda, fa delle monellerie, mentre invece comare le capiatti è una gamba, è una gamba, sta sempre in avanti, piglia gli appunti, e qui, cioè, vi vorrei raccontare tante cose, poi però eludo dal contesto di questo video e quindi mi cucio la bocca e me ne sto zitto, anzi, guarda, ci metto un po' di calce su, così. E riprendendo il discorso dell'altro video, che poi l'ho fatto subito dopo questo, quindi per me è passato un secondo, e magari questo lo carica a distanza di mesi, però lo stesso principio vale per i luoghi, per i nomi dei posti, no? Dici, c'è Cicciapuzza, dove va Cicciapuzza? Cicciapuzza va al mare, in quale mare va? Va, in quale mare va? Alla spiaggia di Capocotto, no? Prima vi ho detto Collina degli Stivali, Prato Bello, Morsetto, Vaffino, sono dei paesi che hanno dei nomi buffi, strambi, stravaganti, strampalati, e quindi creano comicità. Ve li leggo, ve li leggo questi nomi. Ora sai che penso, che secondo me questo video lo posso attaccare a quello prima e farne uno unico, no? Cioè, sì, così vi metto nomi e vi metto anche le località. Allora, le località, Collina degli Stivali, Spiaggia di Capocotto, Bosco degli Alberi Smarriti, Bosco degli Alberi Smarriti, bella, bella, è un bel nome, Valle degli Specchi di Luna, cioè anche questo, è poetico, non è che debbano per fortuna sempre strapparsi la pelle dalle risate, è bella anche un po' di poesia, no? Ci sta bene. Fiume, come si chiama il fiume? Fiume tutto scorre, fiume tutto scorre, anche quando c'è la siccità, il letto del fiume è tutto secco, fiume tutto scorre, può essere di buon auspicio. Il lago, lago della bilancia, cascata del pendolino, la cascata del pendolino, che poi alcuni sono veramente dei luoghi che esistono, o perlomeno che ho visitato, che sono vicini al posto dove vivo io, o comunque magari che ho sentito alla radio, o da amici, chi lo sa, e poi i paesi, i paesi strampalati, no? Che ve l'hanno già accennati qualcuno, però ve li ripeto, Pratobello, Vaffino, Morsetto, tre tocchi, sei squilli, sono i nomi di paesi, invece di dire viene il maestro Cicciapuzza, dove viene? Da Torino, no? Non è credibile, Cicciapuzza non può venire da Torino, non può venire da Roma, da Firenze, viene dalla collina degli stivali, in località Pratobello, tra Vaffino e Morsetto, vicino alla cascata del pendolino, nei pressi del lago della bilancia, là, dove c'è il fiume, tutto scorre, senti che bellezza, ha anche un bel ritmo, un bel suono, ok, finisco, eravamo rimasti, i nomi di paesi, tre tocchi, sei squilli, tutto bello, pifferello, salta salta, e non ricordo cosa, non ricordo cosa, che qui, in questo contesto, l'ho usato, ve l'ho proposto come nome di una località, mentre nell'esempio precedente era il nome della bottega di Fiera Mosca Tiramisu, sì, l'ho associati, ma a volte mi piace anche a me un po' un po' mescolare, io penso che questo, se fate il mestiere degli animatori, clown di corsia, o anche comunque se siete educatori, maestri, o psicologi, o qualsiasi tipo di professionista che comunque ha a che fare con i bambini, e volete dare loro dei messaggi istruttivi, se usate della sana comicità, le cose rimangono maggiormente in mente, rimangono fissate nella mente del bambino, perché vengono associate a qualcosa che conoscono, cioè al gioco, che è il loro linguaggio, il linguaggio del bambino è solo ed esclusivamente il gioco, e noi dobbiamo imparare quel linguaggio lì, è il linguaggio della follia, ciò che Erasmo da Rotterdam descriveva mirabilmente nel suo libro L'Eloge della Follia, è ciò che sprona le persone a brindare, a ridere e a bere, è la linfa di ogni relazione, senza uno scherzo qualsiasi tipo di relazione muore, non decolla, non decolla, lo scherzo è la base della complicità tra le persone, immaginatevi quanto sia importante con i bambini, che giocano fissino in qualsiasi cosa, quindi anche l'insegnamento passa assolutamente dal gioco, perché il bambino diventa la cosa che fa Montessori. Dai, e chiudiamo qui, poi, anzi ora vi riafro un nuovo capitolo, perché ho preso il via, mi sei attivato il neurone, e perché non sfruttarlo? Chiudo il video, chiudo il video, poi ve ne faccio uno di seguito, se no viene chilometrico, quindi vi saluto e vi ringrazio, shalom, anzi salam aleikum a tutti voi.